Il prossimo 21 giugno AIFA presenterà il rapporto OSMED 2016. Quali sono le fonti di big data che l'agenzia utilizza? L'agenzia utilizza dati che provengono da diverse fonti, essenzialmente sono due le fonti di dati. Sono i dati che provengono dalle aziende sanitarie per singolo paziente, che confluiscono all'interno dell'OSMED LTB, che in questo momento è praticamente il database più grande al mondo di monitoraggio dell'assistenza per paziente in relazione all'uso dei medicinali e quindi alle conseguenze che anche tale uso determina in termini sanitari. L'altra fonte molto importante sono i registri di monitoraggio AIFA, che ovviamente consentono un monitoraggio di tipo diverso, indubbiamente rispetto a quello che è possibile attraverso OSMED LTB, ma che comunque in qualche modo permettono nel complesso di capire qual è l'impatto dei farmaci nella pratica clinica e nel contesto assistenziale italiano. Quest'anno nel rapporto OSMED entrano nuove classi di farmaci, tra cui quelli per la sclerosi multipla, per l'HCV e se ci può dare qualche anticipazione su ciò che sta emergendo? Il rapporto OSMED 2015 nasce come uno strumento di informazione e di formazione degli operatori sanitari, all'interno del quale è possibile trovare dati e informazioni che possono riguardare e interessare anche il singolo cittadino, però la sua natura è essenzialmente di formazione e informazione degli operatori sanitari. Al suo interno sono declinati i dati che consentono di capire se i medicinali sono utilizzati in modo appropriato, se rispettano le indicazioni a livello internazionale regolatorie, così come i limiti della rimborsabilità. Sono declinati quelli che sono i volumi e i consumi dei medicinali nei diversi ambiti terapeutici, a cominciare ovviamente dall'HCV che ovviamente ha un suo settore dedicato per la prima volta nel rapporto di quest'anno, proprio a causa dell'introduzione in commercio in Italia di medicinali molto importanti in quest'area terapeutica. In questo senso gli indicatori di appropriatezza sono uno strumento fondamentale e in particolar modo lei ha citati quelli della sclerosi multipla, ma ci sono molteplici aree terapeutiche che coinvolgono sia la medicina del territorio sia la medicina specialistica, sono indirizzati essenzialmente a dare dei riferimenti, dei parametri che per quanto grossolani possano essere utili a capire se la pratica clinica sta andando verso un uso del medicinale utile ed appropriato oppure se c'è viceversa da lavorare in questi ambiti. Visto che parliamo di appropriatezza, sono stati fatti dei passi avanti nelle regioni italiane? Se sì, per quali classi farmaceutiche? Allora, da quando abbiamo introdotto gli indicatori di appropriatezza all'interno del rapporto OSMED, diverse regioni hanno recepito all'interno di atti normativi di livello regionale questi indicatori e li hanno utilizzati come strumento di indirizzo della pratica clinica e della appropriatezza nella pratica clinica. A fronte di queste situazioni, ma più in generale anche dell'effetto informativo e mediatico che è derivato dal rapporto OSMED, ne è conseguita una inversione di tendenze in diverse categorie terapeutiche. Per esempio assisteremo che i famosi ormai tanto vituperati inibitori di pompa, i gastroprotettori, quest'anno per la prima volta hanno, diciamo, il livello di appropriatezza migliora o quello di inappropriatezza si riduce rispetto al dato dell'anno precedente. Un dato assolutamente marginale, non ancora consistente rispetto a quella che è la realtà, diciamo, assistenziale quotidiana, però è un dato sicuramente importante. Ma abbiamo avuto anche dei, diciamo, dei trend di miglioramento su una serie anche di altri indicatori, come quelli relativi alla continuità terapeutica, quindi ci sono una serie di aspetti su cui ci sono stati indubbiamente dei miglioramenti da questo punto di vista.